Federico TV, oggi 11 dicembre, una giornata particolare per la nostra associazione perché abbiamo organizzato un seminario con il dottor Cantone, autore del libro Football Clan, insieme a Gianluca Di Feo. Stamattina ci fa compagnia il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli, al quale vorremmo subito chiedere, Presidente, questo è un esperimento, un esperimento è il nostro, partiamo da qui per un punto di partenza per coinvolgere i giovani in iniziative del genere. Le cose ne pensa? No, no, fate bene a sperimentare, io sono arrivato qui con un po' di anticipo, ho visto già la sala piena di ragazzi, di giovani, è importante, è importante, tra l'altro in un'aula prestigiosa come l'aula dei Santis, con ospiti importanti, tra l'altro il magistrato Cantone è un magistrato che ha avviato, ha condotto inchieste importanti e sta scrivendo libri importanti. Questo libro appunto affronta un tema importante, attualissimo, che è il rapporto tra le camorre e lo sport, il calcio, che non è solo lo sport più amato dagli italiani ma anche lo sport più amato dalle mafie. Presidente, insomma, stamattina insieme a Cantone ci sarà anche probabilmente Giovanni Domenico Lepore, due autorità in questo senso. Lei cosa pensa? Che alla fine anche iniziative come questa possano sensibilizzare i giovani, avvicinare i giovani a problemi purtroppo difficili e delicati nel nostro territorio come quello della criminalità? Come assolutamente, devo dire che poi come Presidente dell'Ordine mi invitano in tutte le zone della Campania, essendo un ordine regionale, siamo presenti e devo dire che ci sono tanti giovani mobilitati, soprattutto proprio nelle zone più esposte. Negli ultimi mesi siamo stati presenti a Casal di Principe e nell'area casertana diverse volte, insomma, oltre a Napoli e l'area napoletana perché sono le due province più esposte maggiormente a rischio. Ma tra l'altro, quando poi si parla di calcio, di mafie, bisogna andare a fondo perché magari appunto si pensa soltanto ai campionati maggiori, invece c'è un fenomeno molto 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 preoccupante di calcio scommesso e altro nelle categorie inferiori, che è un fenomeno molto più steso di quanto si possa pensare. Presidente, un'ultima domanda. Ho letto di recente su internet come è andata a finire la storia di Amandola, quel giornalista che ha definito i tifosi napoletani, se ricorda, li riconoscete dalla puzza. È stato un evento che, almeno a me personalmente, come spiante giornalista, mi ha turbato, però in effetti lui è stato licenziato dalla RAI e insomma sono stati presi di seri provvedimenti disciplinari. Lei cosa pensa a questo proposito? Allora, dispiace professionalmente per un collega, adesso i colleghi del sindacato RAI vedranno se ci sono i margini per recuperare, loro pensavano più ad una sospensione, anche lunga, più che ad un licenziamento. Dispiace per lui, umanamente, personalmente speriamo che possa tramutarsi in una lunga sospensione. Detto questo, però, ci sono troppe persone che utilizzano questa professione in modo superficiale, in modo poco professionale, anzi, professionalità zero in quel caso, da parte di questo signore che aveva avuto la fortuna, noi siamo in un momento in cui la nostra professione attraversa grandi difficoltà, abbiamo un gran numero di precari, questo signore aveva avuto la fortuna, anche l'abilità, la bravura, diciamo, di andare a lavorare alla RAI e ha giocato male le sue carte in modo poco professionale. Se pensava di fare lo spiritoso, non ha fatto ridere nessuno, se pensava di… tra l'altro, poi quella frase l'ha detta lui, non ha almeno… Cioè, nemmeno l'ultra della… è lui che ha detto, come li riconoscete dalla voce, lui stesso, insomma, quindi in un certo senso è stato molto, molto più corretto l'ultra della Juventus, rispetto al giornalista che è stato peggio dei peggiori ultra. Perfetto, ringraziamo il Presidente Ottavio Lucarelli, grazie e linea alla regia.